Il pane Il pane Elemento più comune del nutrimento, simbolo di ciò che assicura la vita, segno di familiarità, amicizia, condivisione. Io sono il pane disceso dal cielo. La presenza di Cristo in noi fa lievitare i nostri pensieri, affetti, esperienze, progetti e trasforma la nostra identità. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, dice San Paolo. Anche noi cristiani siamo chiamati a diventare pane. Frumento di Dio io sono e con i denti delle belve sono macinato per essere trovato pane puro di Cristo, dice Sant'Ignazio di Antiochia nel momento del martirio. Pane per i nostri fratelli, macinati nel sangue della guerra, stridolati nel laccio dell'ingiustizia, frantumati nell'ingordice del potere, sbriciolati nell'odio di razza, spezzettati nella ripressione della libertà. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, quello necessario, quello sostanziale, quel pane preparato per noi nel banchetto dell'eternità. Dacci oggi! Dacci oggi! Grazie a tutti.